Ciao, sono Francesca e in questo video vi mostro come realizzare un braccioletto a macramè con motivo a spirale. Per realizzarlo ci serviranno due fili di cotone, uno lungo circa 30-40 cm e l'altro lungo almeno un metro e mezzo. Comincio prendendo il filo di cotone più corto, lo piego in due e faccio un nodino all'estremità. Lo fisso con un pezzettino di scotch alla scrivania e faccio scorrere il filo di cotone più lungo al di sotto del più corto, fissandolo facendo un mezzo nodo. Grazie a tutti. Adesso parto dal filo destro e lo posiziono sopra il filo centrale. Posiziono il filo sinistro su quello destro e lo faccio passare al di sotto dei fili centrali, avendo cura di farlo uscire dall'asola creata dalla posizione del filo destro. Continuiamo così per circa 2-3 cm. Possiamo inserire delle perline per decorare il bracciale. Procediamo in questo modo, quindi sempre partendo dal filo destro per tutta la parte rimanente del bracciale. Alla fine faremo dei nodini per fissare il lavoro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.